tutto è duale tutto è polare per ogni cosa c'è la sua coppia di opposti questo è il quarto grande principio ermetico grazie ad esso gli antichi paradossi che hanno sempre assillato gli uomini possono finalmente essere compresi in fondo l'uomo ha sempre riconosciuto che doveva esistere qualcosa del genere e lo ha espresso seppur confusamente in massime e aforismi tutto è e non è allo stesso tempo ogni verità è una mezza falsità c'è un rovescio per ogni medaglia così via per gli ermetici fra le cose che appaiono opposte esiste solo una differenza di grado quindi gli opposti sono conciliabili a coppie secondo il principio della polarità cominciamo mostrando che materia e spirito non sono che i due poli della stessa cosa e che gli infiniti piani compresi fra essi non sono che diversi gradi di vibrazione anche il tutto e la moltitudine sono la stessa cosa differiscono sempre per grado ugualmente vale per le leggi dell'universo e le leggi dell'uomo per la mente infinita elementi finite non esiste l'assoluto tutto dipende dal grado come sul termometro non si può dire quando cessa il caldo e quando inizia il freddo malgrado ciò noi siamo costretti ad usare i relativi cioè i poli della stessa cosa quindi diremo alto e basso oriente ed occidente caldo e freddo grande e piccolo duro e morbido positivo e negativo luminoso ed oscuro se giriamo intorno al mondo verso oriente giungeremo in un punto che da dove siamo partiti è considerato occidente camminando sempre verso nord ci troveremo a viaggiare verso sud e così via esistono molti gradi intermedi tra la luce e l'oscurità per esempio che sono poli della medesima cosa lo stesso è valido per la scala dei colori la solo differenza la sola fra l'ultravioletto e l'infrarosso è la velocità delle vibrazioni lo stesso ragionamento è valido anche sul piano mentale amore e odio reputati normalmente opposti ed inconciliabili non sono affatto distinti l'uno dall'altro sono solo due termini che si trovano i due poli di uno stesso concetto unitario e tra loro ci sono tutti i gradi intermedi il tutto a prescindere dal punto dal quale siamo partiti tra diversi gradi di amore ed odio c'è un punto in cui piacere e dolore sono così deboli e vicini da confondersi potremmo usare lo stesso principio per il coraggio e la paura e per qualunque altro aspetto del piano mentale ovunque esistono coppie di opposti ovunque ci rendiamo conto di qualcosa dobbiamo renderci conto anche del suo opposto è proprio sulla base della polarità che l'ermetico riesce a trasmutare gli stati mentali per le cose appartenenti alla stessa categoria la cui polarità è intercambiabile l'amore non può diventare oriente o d'occidente infrarosso o d'ultravioletto però può come spesso accade tramutarsi in odio il quale a sua volta può ridiventare amore invertendo di nuovo la polarità il coraggio può diventare paura il duro morbido il caldo freddo il codardo impavido tutto aumentando le vibrazioni e sempre fra cose della stessa specie ma di grado diverso lo studente che ha familiarità con i processi per cui le varie scuole della scienza della mente portano a cambiamenti negli stati mentali di quelli che seguono le loro dottrine potrebbe non comprendere pienamente il principio dietro a questi cambiamenti ma una volta compreso il principio della polarità si rende conto di come funzionano tutte quelle pratiche misteriose non si può cambiare la natura di una cosa in un'altra completamente differente ma cambiamenti di grado nelle stesse cose sono sempre attuabili il che è molto importante la conoscenza di questo grande principio ermetico significa per lo studioso una più profonda comprensione dei propri e degli altrui stati mentali altresì egli noterà che questi stati mentali dipendono tutti dal grado e che di conseguenza può cambiare i suoi stati mentali con un innalzamento od un abbassamento della vibrazione diventando così padrone e non schiavo degli stessi il modo in cui pensa può portare dei cambiamenti a quello che dimostra di essere inoltre grazie a questa facoltà potrà dare un valido aiuto ai suoi simili e mutare secondo metodi ben precisi qualora gli sia utile la polarità quindi ti diamo un ultimo consiglio in questa lezione approfondisci questo principio perché ne trarrai grandi vantaggi in molte molte situazioni difficili